La cultura, intesa in senso antropologico, è quell'insieme di pratiche, di stili, di regole, di modi di comportarsi che ogni comunità mette in atto affinché i suoi membri convivano tra di loro. Quindi per ogni individuo apprende una serie di strategie di comportamento e di sopravvivenza in quanto membro di una società o di una comunità.